Tutti i cittadini che vivono in Campania saranno obbligati ad utilizzare la mascherina e gli altri dispositivi di protezione individuale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Lo prevede l'ultima ordinanza emessa dal Presidente della Regione Campania in vista del 4 maggio. Non sono soggetti all'obbligo, si legge nel provvedimento, i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza degli accompagnatori titolati. Chiunque non rispetterà le misure di contenimento e prevenzione sarà multato per una somma che varierà dai 400 ai 3.000 euro. Chiunque non rispetterà le misure di contenimento e prevenzione sarà multato per una somma che varierà dai 400 ai 3.000 euro.